Avevamo la possibilità di dare all'Italia Air France, ci siamo accollati invece i debiti scaricandoli sulle spalle dei nostri concittadini di una compagnia di bandiere è stato fallimentare e CAI finirà per essere dei francesi, per cui il risultato è il peggiore, ci siamo presi gli oneri sulle nostre spalle e finiremo per non avere la compagnia di bandiera.